In questo video vi voglio mostrare una serie di dati e l'interpretazione porta inequivocabilmente alla conclusione che l'inflazione stia ormai morendo e che la recessione sia una forte possibilità. Ovviamente, come sempre vi racconto, i miei studi si concentrano sui dati degli Stati Uniti d'America in quanto sono trainanti a livello mondiale, soprattutto a livello finanziario, quindi poi si trascinano appresso le economie occidentali delle altre nazioni e anche i listini borsistici. Ciao ragazzi, ben ritrovati qui sul mio canale. Non avrò la pretesa di poter prevedere il futuro, come vi dico, quindi ad oggi è ondato, domani può accadere qualunque cosa, anche un cigno nero, anche una sorpresa, magari anche un fatto positivo, straordinario, che va a ribaltare il tutto. Quindi parliamo con i dati in possesso oggi e con quelle che sono le interpretazioni più logiche ed ovvie, anche se nulla può essere dato per scontato. Alcuni di voi mi hanno segnalato, ma come mai adesso che, oddio, prima sembrai più ottimista, adesso sei un po' pessimista, ieri dicevi che dobbiamo essere un po' attenti, ma come mai bisogna ragionare sullo scenario peggiore. Ragazzi, io sto cercando veramente di farvi capire tramite quelli che sono i miei contenuti che voi dovete ragionare da investitore intelligente. Quindi essere consci che non potete prevedere il futuro e sapere se il 2023 sarà positivo o negativo. Quindi ora vi vado a portare questi fatti che sono abbastanza inequivocabili e poi vi mostrerò come l'investitore intelligente che ha preso una decisione a monte non debba assolutamente temerli, potrebbe anche profittarne in un certo senso. Inoltre, alcuni di voi mi hanno fatto notare che se il 2022 è stato fortemente positivo, voglio dire, scusate, magari fortemente negativo, è probabile che il 2023 sia positivo, perché questo ci insegna la statistica. Se andiamo a vedere gli ultimi decenni, bisogna tornare ai inizi del 2000 per vedere quei due o tre anni, uno successivo all'altro, negativi. Solamente quando c'è un singolo anno abbastanza importante, negativamente parlando, in termini di performance, segue un anno positivo. Quindi, ad esempio, questo è un elemento a favore della teoria, anche se preso così da solo non significa quasi niente, però è uno di quei tanti elementi che noi potremmo andare a cercare, ve ne sono veramente un numero elevato a sostegno di un 2023 tutto sommato che potrebbe essere con il segno più. Però vi sono tantissimi elementi che potrebbero farci intendere come il 2023 sarà un anno negativo. Il mercato stesso è veramente disorientato e lo si vede un po' dai suoi movimenti in questi giorni e si sentono mille più analisi, o meglio, nel 2022 è stato bello orientato, no? Perché il trend di fondo è ribassista. Però, nelle ultime sedute, no? Viviamo un'incertezza fortissima, proprio a livello reale di percezione. Quindi io vi vado a condividere il tutto semplicemente per rendervi più consci. Cioè vorrei che coloro che sposano la teoria della distruzione totale prendano e sentano anche quelle che sono delle notizie che possono essere confortanti, perché non ci si può orientare con la sicurezza al 100% che il 2023 sarà l'equivalente della fine del 2008 o andrà veramente a braccetto con il 2022. Cioè non si può ragionare in questa maniera qui. Come? Così come non si può dare per scontato che il 2023 sarà un anno super splendente e ritroveremo i nuovi massimi. Quindi l'investitore intelligente non si concentra su questo ma si concentra sulle cose che vi dirò alla fine del video. Ma ora vi vado a mostrare dati grafici da interpretare e abbastanza chiari, direi. Credo che questo grafico sul tasso di inflazione degli Stati Uniti d'America lo conosciate a memoria. E quindi abbiamo visto come la discesa sia altrettanto forte, cioè voglio dire se rapportata con il rialzo, no? È una sorta di V più o meno, anche se non perfetta. Ma noi dobbiamo concentrarci su questo grafico, secondo me, per capire quale sarà l'inflazione nei prossimi mesi. Ovvero capire il cambiamento mese su mese perché poi i mesi trascorsi, col trascorso del tempo, scompariranno e quindi per capire il tasso dell'inflazione bisognerà fare il conto col mese equivalente di un anno fa. E quindi vediamo qual è l'attuale tendenza. Quella attuale più o meno è una forte frenata, quindi un'inflazione che va verso una normalizzazione. Quindi noi dobbiamo ovviamente incontrare, per desiderare un'inflazione al 2-3%, di singoli mesi con uno 0.1 o singoli mesi che hanno comunque un numero poco più elevato. È un problema quando vediamo tutti quanti i mesi 0.4, 0.5, 0.6, 1, perché sommati a fine anno portano l'inflazione fuori controllo. Quindi se noi attualmente ragioniamo mese su mese stiamo cominciando a incontrare lo 0.1. Quindi vi è un cambiamento fortissimo in atto ed è inequivocabile, tanto più che l'inflazione è in ritardo. Ed è in ritardo anche su alcuni settori, alcuni comparti in cui solo negli ultimi mesi si è visto un cambiamento di trend, quindi quello che noi potremmo chiamare deflazione, quindi una riduzione dei prezzi. E si andrà a riscontrare nei prossimi mesi. Ecco, questo è inequivocabile in questo momento. Andiamo ancora avanti e guardate un po' qual è ad esempio lo spot market price index di tutte quante le materie prime. Quindi creiamo un indice di materie prime, cerchiamo di capire qual è l'andamento del prezzo, ci costruiamo un indice sopra e vi è una tendenza a ribasso. Addirittura qui, se prendiamo un lasso di tempo breve, parliamo di deflazione, parliamo di riduzione dei prezzi. E questo si va a impattare soltanto alcuni mesi dopo a livello di inflazione. Andiamo ancora avanti e guardiamo l'andamento delle commodities negli ultimi mesi. Guardate qui il prezzo, il picco raggiunto a giugno del 2022. E se osserviamo questo numero, guardate ogni mese, ogni singolo mese è in diminuzione. Ripeto, l'andamento delle materie prime può essere molto impattante per il mondo dell'inflazione. Quindi guardiamo adesso una riduzione degli affitti, quindi osserviamo il National Rent Index degli Stati Uniti, quindi cambiamento mese su mese, siamo andati sotto lo zero e quindi gli affitti non aumentano più ma si trovano in diminuzione e il mondo immobiliare ha il suo impatto insieme a quello energetico, a quello del food, sull'inflazione. E anche qui, ripeto per l'ennesima volta, questa deflazione a livello di affitti la riscontreremo nei prossimi mesi. Vediamo il prezzo delle case. Dopo che questo è aumentato non ci riesce più. Quindi vi assorta una stabilizzazione e anche una leggera diminuzione del prezzo delle case. Pertanto l'inflazione potremmo decretarla verso la morte imminente se leggiamo questi dati. Almeno io vado a interpretarli in questa maniera qui. Non sono il detentore della verità assoluta e parto sempre dal presupposto che non posso conoscere il futuro. Detemi la vostra. Andiamo avanti e guardiamo invece quella teoria che può portarci a pensare che debba esserci un'inflazione. Poi magari sarà un soft landing. Scusate se ho detto inflazione, volevo dire recessione. Stiamo cambiando discorso dall'inflazione alla recessione. Stiamo capendo che adesso anche i mercati cominciano un po' a orientarsi in questa maniera qui. Cosa stiamo osservando? Beh, quello che è l'andamento del salario reale dei lavoratori. Quindi se noi ragioniamo per il salario reale, che cosa significa? Beh, i salari negli Stati Uniti d'America stanno aumentando in maniera considerevole. Tuttavia qui vediamo anche una diminuzione. Da cosa è data? Perché è il salario reale. Quindi noi dobbiamo ovviamente andarlo a contestualizzare, cioè a capire qual è il suo potere di acquisto. Sappiamo appunto che esiste l'inflazione. Sì, ho aumento il salario del 6%, ma l'inflazione è l'8%. Sì, è vero. In termini nominali lo stipendio mio è aumentato del 6%. Sono contento, invece di prendere 2.000 dollari ne prendo 2.120, però i 2.120 valgono meno di 2.000 dollari dello scorso anno perché l'inflazione è stata dell'8%. Il mio potere di acquisto è diminuito. Andiamo avanti. E qui ci sono due grafici, uno appresso all'alto, davvero interessanti. Che sono il simbolo portato veramente ad esempio di coloro che dicono diamine. Ma qui la recessione sembra imminente, un po' di difficoltà economiche, le vediamo, le riscontriamo. Stiamo osservando il crollo del personal saving rate. Significa proprio il tasso di risparmio di un americano. E quindi è il più basso di sempre, ragazzi. Stiamo credendo che sia il valore più basso. 2.4 Abbiamo qui un 2.1, ecco, luglio 2005. L'abbiamo avuto soltanto a luglio 2005 un valore più basso. Quindi è il secondo valore più basso, ma in diminuzione. Quindi potrebbe raggiungere questo regolo del 2005 o superarlo. Ad oggi è il secondo valore più basso dal 1959. 63 anni praticamente un americano non ha mai avuto un tasso di risparmio così basso se non qui in un mese, nel 2005. Andiamo avanti ed osserviamo l'utilizzo delle carte di credito. Vedete il bilancio, credit card. Praticamente gli americani stanno utilizzando sempre più carte di credito. Quindi sono, diciamo, come mai l'economia appare resiliente? Non sta crollando anche se vediamo dati macro che dovrebbero trascinarla giù. Per tre motivi, ragazzi. Il primo motivo è tutta l'alliquidità che è stata immessa nel sistema e il sistema stesso sta ancora finendo di drenarla. E quindi manca ancora un po' per rimanere all'asciutto. E quindi devono ancora fare effetto veramente l'aumento dei tassi di interesse e anche la riduzione del bilancio delle banche centrali. Dopodiché, infatti, i due elementi che noi osserviamo e siamo entrambi collegati al primo, siccome stiamo finendo di drenare quel denaro cosa significa? Ci si sta mangiando i risparmi. Eccolo qui il denaro in eccesso. Lo vediamo qui della capacità di risparmio dell'americano medio, del cittadino americano e ora non è più capace di risparmiare. Quindi sta vivendo dei soldi accumulati negli ultimi mesi, in passato, nel recente passato. Se li sta mangiando tutti, sta affinando questi soldi. Quindi si vive di risparmio oppure si vive, come sempre, di debito tramite le carte di credito. Quindi l'economia è sostenuta dai risparmi che si stanno prosciugando e dalle carte di credito. Non è un qualcosa che ci porta verso l'entusiasmo, se pensiamo all'economia. Se finiscono i risparmi, se arriviamo al massimo di capacità delle carte di credito, se a un certo punto i debiti cominciano ad essere importanti, è chiaro che la capacità di spesa dei consumatori si ridurrà. Questo si va a tradurre in minori utili per le aziende, quindi in minore crescita del GDP, cioè del PIL americano uguale recessione. Non basta soltanto la menzione del PIL, ma bisogna vedere anche una problematica a livello lavorativo. Ma se si va a persistere, diventa pesante la situazione, il numero di disoccupati va ad aumentare. Quindi se noi sommiamo tutte quante queste metriche che vengono prese in considerazione da istituti poi specializzati in istituti d'America, poi si ottiene la recessione. E quindi tutti i nostri elementi portano verso quella conclusione. Ora qui vi mostro, e sto insistendo anche su questo fatto, clamoroso dell'inversione dei tassi di interesse, che ve l'ho mostrato negli ultimi video, 10 anni e 2 anni, e anticipa sempre una recessione. Io, se dovessi prendere questo singolarmente, non mi sentirei di scommettere. A parte che ha funzionato al 100% delle volte, però sappiamo che la statistica esiste anche per essere sconfessata. Prima o poi questo 100% mai diventerà il 90%. Però, se io vado a cercare altri elementi, in questo momento vedo comunque un'economia che si va a raffreddare, e mi chiedo come mai però è sostenuta, dov'è la fregatura, la trappola, e la riscontro nel fatto che l'economia è sostenuta dal fatto che si stanno mangiando i risparmi, perché vi era troppa liquidità nel mercato. Ora, la cosa migliore sarebbe che l'economia fosse ristimolata nel momento in cui, magari, tutto quel denaro di cui parlavo prima è stato drenato, e quindi quello sarebbe un atterraggio morbido. Cioè, cercare di ripartire, di magari ristimolare, di risostenere senza troppo ritardo, perché poi si rischia veramente di precipitare in recessione pesante. È un lavoro che va fatto a livello proprio artistico, da chirurgo, proprio con le pinze. Cioè, bisogna stare veramente attenti, non si può fare così come capita capita. e vediamo un po' quello che accadrà, ragazzi. Voglio dire, è difficile da realizzare. Poi, al di là di coloro che, ovviamente, pensano che la Fed o altri che comunque controllano il sistema abbiano invece l'interesse di portarci verso il collasso. Ma questi, diciamo, sono argomenti di altra natura che non posso qui affrontare nel canale. Cioè, se volete, sfocatevi pure nei commenti. Mi diverto, sono curioso, ovviamente, nel leggerli. Mi possono anche interessare. Però io qua vi parlo di quella che dovrebbe essere la teoria, di quelli che sono numeri, dati, e quelle che dovrebbero essere le intenzioni da manuali a livello macroeconomico di una banca centrale o di chi per essa. Andiamo avanti e, in realtà, andiamo a terminare. Qui vi mostro, ad esempio, un'azienda che stavo studiando. Devo ancora terminare un po' con gli studi. È un classico trust immobiliare. Sono molto attratto da questa tipologia di aziende perché nel tempo mi sono specializzato negli investimenti immobiliari, non solo tradizionali, ma anche del mondo dei trust immobiliari americani. La East Group Robertis è una società specializzata in costruzioni, diciamo, industriali come tipologia di immobili in quella che viene definita cintura solare negli Stati Uniti d'America. Una zona sicuramente molto attrattiva per quanto riguarda gli investimenti in termini immobiliari sia residenziali sia di altra tipologia. Ovviamente quello che vi mostro non è un consiglio finanziario tanto più che ancora sto studiando eventualmente questo investimento. Quello che voglio farvi intendere è che laddove, ad esempio, un investitore intelligente si andasse sempre a selezionare delle aziende che hanno questa configurazione a patto che ovviamente qui uno si vada a studiare anche il debito, il team, il settore, tutta un'altra serie di metriche, però qui ce ne sono due già fondamentali. Sull'azzurro andiamo a vedere quello che è il dividendo, quindi politica del dividendo sempre costantemente in aumento negli anni, non un singolo anno, ma continuativa nel tempo. Per esempio stiamo suonando dal 2016 al 2022 e quindi praticamente sono sette anni. Se per sette anni consecutivi io sono riuscito a pagare un dividendo non è un artificio, ragazzi, contabili. C'è in che senso Gianluca? Nel senso che i dividendi sono soldi veri che vengono rilasciati agli azionisti, quindi uno dei soldi deve averci liberamente, non sono finti, no? E poi vedere ovviamente che la crescita di un dividendo corrisponda alla crescita di quelli che sono gli utili. Fatturato e utili, sinceramente, entrambe le due voci. Perché come mai entrambe le voci? Ecco, andiamo ad aggiungere anche proprio il revenue. Vedete come le revenue crescano, no? A dismisura. E queste colonne si vanno a mangiare totalmente quelle di prima perché quelle hanno dei valori per azione. Questi sono i milioni invece in assoluto su tutta la capitalizzazione dell'azienda. Vedete, è importante che utili e revenue entrambe crescano perché significa che proprio è il business che sta crescendo. L'operativo è il business che funziona. Non è un singolo anno in cui magari io sono andato a vendermi dei miei asset, i miei capannoni o chissà cosa vuoi un portafoglio e quindi risulta un artificio contabile o un utile, no? Qui gli utili sono generati dal business e lo vedo anche dal fatturato. Poi ci sarebbe, ci sono tutte quante quelle voci di reddittività che sono agganciate all'operatività dell'azienda e sono altre metriche che uno può andare a vedere. Ma già quando noi osserviamo un fatturato costantemente in aumento e anche un utile in aumento sappiamo che sicuramente deriva dal business e non da artifici. Ora togliamo le revenue e quindi qui capiamo anche che se il dividend per share è assai inferiore all'FFO e qui stiamo osservando un FFO perché stiamo parlando di trust immobiliari e noi dobbiamo avere questa metrica da considerare quando parliamo di trust immobiliari e non le classiche metriche che invece andiamo a studiare quando parliamo di azioni tradizionali vediamo che qui il dividend è coperto è un payout ratio veramente molto interessante. Come mai ve lo mostro? perché se l'investitore intelligente si sceglie delle società di questa tipologia qui ma chi se ne importa cioè se ne può veramente passatemi il termine poco tecnico fregare della congiuntura economica soprattutto se l'investitore intelligente vede che magari un titolo ha fatto meno 30, meno 40, meno 50% in borsa ed è il caso di questo titolo qui e per cui lo andavo a studiare. Quindi può divenire interessante e se vediamo che comunque è lanciato verso questa situazione qui dovrebbe riuscire ad attraversare anche una crisi alla grande è vero magari c'è troppo ottimismo qui per il 2023 o magari per il 2024 a parte vediamo che è un'azienda che è lanciata verso quella situazione quindi comunque hanno anche dei contratti che li tutelano in tal senso però nel momento in cui noi vediamo che un'azienda in salute è lanciata verso un trend ed ha un dividendo estremamente coperto da dove comunque si riducesse anche la sua capacità di redditività comunque riuscirebbe ancora a pagarci il dividendo e ha la forza di resistere per poi ricavalcare quella che è la ripresa di un mercato azionario di un settore e se è un'azienda qualitativa sarà la prima a riprendersi nel suo settore attenzione io non sto dicendo che accadrà East Group non c'è un vestito devo ancora approfondire però vi voglio far vedere visionare quelle che sono le metriche e i ragionamenti dell'investitore intelligente quindi l'investitore intelligente che magari sceglie 30 aziende simili a questa continua a prendersi il dividendo probabilmente da tutte quante queste aziende anche in tempi di crisi o subirà dei tagli veramente irrisori quindi continua ad avere i suoi flussi di cassa e il suo portafoglio si riprenderà alla grande prima di tanti altri che invece hanno solo immondizia ragazzi io qualche piccola scommessa e qualcosa di immondizia ho anche avuto nel portafoglio e ce l'ho ma sono delle piccole scommesse voglio dire il grande del core del portafoglio degli investimenti deve essere qualitativo deve essere dato da aziende che generano da anni i flussi di cassa positivi non possiamo avere solo promesse in portafoglio la promessa ce la possiamo avere ma deve essere costruito così questa è una mia opinione io non dispenso dei consigli finanziari non voglio farlo non devo farlo non mi interessa non posso farlo non sono un consulente neanche ci tengo sono delle mie opinioni e ci metto tanta passione andiamo ancora avanti prima di terminare guardate qui l'S&P 500 ma potreste prendere anche altri indici certo questo è quello che ad oggi ha sicuramente restituito di più gli investitori comunque se voi andate a investire sull'S&P 500 ragazzi ma se investite su un indice mondiale alla fine è sempre trannato l'S&P 500 andatevi a vedere i primi costituenti cioè non prendiamoci in giro le cose magari fra anni e anni e anni cambieranno ma ad oggi addirittura gli indici mondiali sono stati l'S&P 500 più qualcos'altro che ha funzionato più da zavorra quindi andiamo a studiare questo non sto dicendo che in futuro sarà così ma non sarà così eventualmente in un lontano futuro ragazzi nel breve termine non vedo le cose estremamente differenti però non è tanto la visione dell'S&P 500 quanto vedete se io ho un piano di accumulo cosa devo fare? devo accumulare tutti quanti i mesi quindi cosa fa l'investitore intelligente che sceglie un indice azionario e un piano di accumulo invece di fare stop making lo porta avanti sempre e comunque perché non può sapere quello che accadrà ci sono dei momentacci guardate qua dal 2000 al 2010 11 insomma un decennio totale dove l'S&P 500 non è andato da nessuna parte però l'investitore intelligente che porta avanti il suo piano di accumulo come se non ci fosse un domani è chiaro che vedendo queste oscillazioni avrà un prezzo meglio di carico avrà avuto che non sarà stato l'apice del mercato del 2000 non sarà stato neanche il bottom del 2002 o del 2009 ma sarà stata una via di mezzo perché avrà comprato tutti quanti i mesi quindi se sarà stata una via di mezzo comunque sia avrà visto anche nell'arco di questi decenni tanto verdi per molti anni avrà avuto subito dei drawdown ridotti e il suo rosso non sarà stato profondo come colui che avrà che avesse investito magari nel 2000 sull'apice e sicuramente con la ripartenza del mercato il suo prezzo meglio di carico gli avrà dato la possibilità di vedere un verde assai prima ok rispetto a quello che è il decennio perduto e di aver ottenuto delle performance ad oggi veramente stratosferiche e questa cosa vedete è accaduta anche dagli inizi degli anni 90 fino alla fine degli anni 90 stessi quindi abbiamo decenni particolarmente fortunati dei decenni un po' più sfortunati vedremo quello che sarà davanti a noi ma nel lungo termine l'economia americana cresce l'economia mondiale cresce il mercato azionario quindi un indice che si basa su queste economie va a crescere ma è normale che funzioni così è insito nella proprio nella nostra economia cioè ad oggi è strutturata affinché vada inesorabilmente così però bisogna essere pronti ad affrontare anche diciamo dei periodi bui perché uno si fa sempre a concentrare su questo più 770% ma non si va a concentrare non si va a educare su questi periodi vedete qua la freccetta meno 40% su questi periodi qua meno 22% non sto prendendo i massimi dal minimo ragazzi ma veramente ma chi è che va all in il giorno dei massimi con tutto il capitale e poi non so si va a guardare il dato solo sul bottom e magari va a scaricare cioè non è che dobbiamo ragionare così però bisogna educarsi per quello vi sto dicendo come mai ieri qualcuno mi ha chiesto ve lo ripeto già in questo video lo sentirete più volte ci stai dicendo bisogna ragionare sul momento su una cosa sullo scenario peggiore per essere pronti motivamente a cavalcare questi periodi e non farsi vendere dal panico perché poi a lungo termine ed ecco perché si dice di ragione sempre a lungo termine è andata bene però a chi va bene ragazzi a chi si riempie solo di spazzatura no va bene a chi ragiona solo su aziende che hanno queste configurazioni più altre metriche che dovete aggiungere poi va bene a chi porta avanti un piano di accumulo su questi indici o comunque ci calca la mano non sui massimi ma quando c'è stato un bel crollo ok a chi va bene e qui vado praticamente quasi a concludere poi ci salutiamo a video va bene a coloro che portano avanti una strategia ad esempio di tipo permanente è chiaro quest'anno è andata malissimo anche sulle obbligazioni non penso che nei prossimi anni vedremo un qualcosa del genere e è capitato proprio perché veniamo da tassi pari allo zero ma adesso non è più così però chi portasse avanti anche delle accumulazioni quindi lasse a docare così il capitale poi risparmiasse e cercasse sempre con risparmi di ricolibrare questa situazione o comunque vendesse ogni anno qualche parte di asset per ricolibrare su queste percentuali una volta all'anno e mantenesse portafogli di questa tipologia e non è un consiglio finanziario ragazzi non vi sto dicendo di emulare questo portafoglio questo è uno dei tanti permanent che esistono portafogli pensati per poter cavalcare diversi scenari macroeconomici e qui ad esempio ha il 25% in oro 25% azionario un 50% obbligazionario suddiviso fra long term e ultra short term quindi uno lo va a riequilibrare e va avanti così nel tempo ecco tranne il singolo anno di pura follia magari dove scende tutto ma c'è anche il singolo anno dove tutto sarà salito a dismisura ecco tranne quei singoli anni che sono delle eccezioni che conferono la regola sono portafogli strutturati e che hanno attraversato i decenni e uno cerca in maniera fedele di rispettare quelle che sono queste dinamiche quindi ha la sua strategia l'investitore intelligente non si fa prendere dal panico e alloca e va a diversificare il suo asset allocation secondo quelle che sono delle istruzioni i sacri crismi dell'investitore intelligente quindi di grandi studiosi economisti che hanno fatto un lavoro a monte per noi poi è chiaro prendiamo in considerazione sempre che il passato non è garanzato nel futuro le cose cambiano dobbiamo avere dell'elasticità però l'elasticità non si può tradurre nel cambio idea ogni tre mesi vendo e compro tutto perché seguo l'andamento del mercato ho il mal di pancia quindi se c'è un rally di due mesi cambio tutto vale in euforia se ci sta un anno difficile svendo tutto e non ne voglio mai più sapere per tutta quanta la vita quindi quello che voglio dire io l'investitore intelligente lo ripeto se ne frega porta avanti queste strategie non gli deve interessare non devi farsi prendere dall'ansia di capire ad esempio se il 2023 sarà un anno positivo o negativo perché tanto stiamo qui con il lancio della monetina questa è la realtà dei fatti ragazzi bene ragazzi fatemi sapere voi cosa ne pensate di questi grafici di questi dati come li andreste voi ad interpretare e se magari l'interpretazione che vi ho fornito secondo voi è sbagliata e soprattutto spiegatene i motivi e vi ricordo sempre che se voi avete una visione o cercate veramente a tutti i costi di portarla proprio in auge proprio è così deve essere così e basta perché ne sono convinto è normale che vi andrete a concentrare solamente sulla ricerca di quei dati a supporto della vostra teoria e come dicevo nell'introduzione del video possiamo trovare 50 grafici che possono aiutarci a sostenere un 2023 positivo nella nostra previsione ma se siamo negativi nella nostra percezione nella nostra visione possiamo trovarne 500 a sostegno di una recessione quindi non cadiamo nel bias cognitivo quello voglio dire nel senso si cerca spesso e volentieri solo ciò che è a sostegno della nostra teoria e mai il suo contrario invece noi dovremmo cercare entrambi i dati metterli insieme e trarre le nostre conclusioni fatemi magari sapere anche nei commenti se state sposando più lo stock picking quindi volete profittare di quotazioni che per voi sono percepite come basse se avete i permanent se avete i piani di accumulo quindi se state tranquilli o se fate un mix voglio dire anche un po' come state andando a investire che sono curioso penso anche gli altri lo siano per confrontarsi ragazzi io vi ringrazio per l'attenzione per essere fino a qui vi chiedo un'iscrizione al canale un bel like per sostenere tutto quanto il mio lavoro come sempre vi do appuntamento a prestissimo e vi auguro un buon investimento e veramente il meglio nella vita a prestissimo ciao